Sì, abbiamo passato dieci giorni bellissimi E anche quelli dieci che ho passato prima Sono stati un po' stressanti, la verità Però sono passati bene, forse anche troppo velocemente Da dove vieni? Da Bostrano in Grappa, in provincia di Vicenza, Veneto Ho visto galline libere e giranzolare In un cortile al mio paese qualche anno fa Mia nonna coltivava le fragole in giardino Dopo il carosello tutti a nanna Il maestro di mio padre alle elementari Sembrava un attore hollywoodiano alcolizzato Impiccava cani con nomi di mafiosi E i mafiosi gridava Ciceroza Mia nonna ha progettato un televisore Da installare nell'oblò della lavatrice Mio zio ha fatto sei anni di scuole medie E dice che voleva approfondire Guttuso ha regalato tre quadri al PC Che son serviti a riparar le porte della sede E il prete a suoi fedeli diceva di votare L'ADC per la salvezza meritare Che son serviti a riparare Guttuso ha regalato E' da che son serviti a riparare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.